si accende così ehi manchè allora ci sei riuscito finalmente dopo 5 anni sono uscito a farlo a compleanno quanti gradi ci sono? Mino Vink ci siamo questa è una puntata finale di nudi e crudi ma i maschi vanno a pesca e noi invece cacciamo le bacche che abbiamo vinto da e siamo nel testo allora mi hai copiato una battuta mia oh video loco monkey d bday 29 settembre 20 qualcosa settembre ci sono anche meno di 20 gradi bomboclac l'icola è nostra vabbè stiamo pulando un altro tipo meglio te lo voglio dire il signor regalami un video completo ragazzi sono beato chi lo sposa perfino ah eh no un video a fumicare dove 5 anni fa volevo fare un falò per il mio compleanno da quel giorno una maledizione non ci sono mai riuscito però oggi questa maledizione è sparita grazie a voi non ci sono mai riuscito non ci sono mai riuscito non ci sono mai riuscito ma ci sono mai riuscito il giambonetto il giambonetto è la festa di rima ti ringrazierò a vita caro rima come mai non ci sono mai riuscito mi sono riuscito ricordi di infanzia che non ti voglio dimenticare non ci sono mai riuscito ci sono mai riuscito ci sono mai riuscito quella cosa è una mela ho le mie cose è qui in borsa ci hanno spostato il follow ci siamo qua ci siamo qua ci siamo accantati guardatevi ma comunque il nome è sempre storico ah no no ah si hai ragione ha ragione ha ragione sta caputata mettiamo un po' di sabbia ci sei un cacao mobile tutti e tre mi guardate anche io no abbiamo accattato la canela per sotto non sappici non è vero non è un quarto tanto auguri a te tanto auguri a rino tanto auguri a te eeeh eeeh trova il numero e spesso il desiderio un altro follow il mio desiderio è mille di questi follow eeeh 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 ma non c'è però un applauso a Nicola 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 saluta mi manchi devi tornare presto le lacrime a gioca le lacrime a gioca le lacrime a gioca l'ho beccato grande Nicolaas ooooooooooooh c'è ooooooooooh ooooooh la ghilet mi viene questa è quella la mettiamo questa pompa la vite la volerà vai per sui coperni no 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 un bongo il pezzo è buonissimo quello fondamentale oggi c'è il pezzo fondamentale là quell'uo svegliato No, no, la mia adolescenza mi ha fatto uscire. Lina, allora? Stai vabbè. Già te lo stai pregustando. Stai pensando stasera a casa? No. Ora voglio vorrei spiegare questo fuoco. No, no, la mia adolescenza che stai dormire la futura.